DC14 è il quattordicesimo immobile realizzato da Vailog all'interno di Interporto dal 2003 ad oggi per una superficie lorda complessiva di oltre 300.000 metri quadri. Si tratta del primo investimento realizzato da Vailog in un'ottica speculativa affidato a GSE con un'attività di commercializzazione che ha avuto luogo durante la fase di cantiere e che si è conclusa con la locazione dell'intero immobile ad una società leader nel settore dell'abbigliamento sportivo. Per GSE è stato un piacere realizzare questo primo progetto per Vailog in Italia e qui all'interporto di Bologna. La collaborazione è stata durante tutto il cantiere molto positiva grazie a un cliente attento e profondo conoscitore di questa tipologia di prodotto immobiliare. È stato un progetto molto sfidante dal punto di vista delle tempistiche. Si tratta di un immobile di circa 20.000 metri quadri suddiviso in tre comparti con uffici annessi. Il progetto è stato sviluppato in un ambiente BIM ed è caratterizzato da un'elevata attenzione all'efficienza energetica. Oltre alla certificazione Bream Fairy Good, l'immobile ha anche la certificazione Carbon Neutral. È una delle prime certificazioni in Italia in campo logistico in tal senso. Assolutamente una scelta veneristica molto importante all'interno del panorama nazionale. La scelta progettuale che ha deciso di intraprendere GSI insieme a Sfrae è stata basata fondamentalmente sul BIM. BIM, che è l'acronimo appunto di Building Information Modeling, è stato un grande impulso per questo cantiere in fase sia di construction management che di project management. Un impianto di Building Management System rileva la presenza di persone e comanda le lampade a LED, climatizzazione e ventilazione negli uffici e le trovalvole per il consumo idrico nei corpi bagni. BIM, che è l'acronimo appunto di